e ben la bocchia arti due cose ne parliamo adesso pensiamo niente forse madonna aspetta che devo fare una roba che sta a vibrare il telefono non so cosa mutarlo ci siamo spaccati un botto tanto si vive ancora una volta il telefono lo lancio fuori però poi non c'ho più internet lo lanci fuori è un partito che giocavo in leggero su csv che non sapevo neanche cosa sarà livello 10 adesso non lo so non so cosa dirti se avessi una scheda video mi vedrei stirate vedi un frame lag anche se c'è cento frame di un frame lag che ti viene a tirare pugno al computer tipo una condizione anche quello devi mettere anche quello poi no però c'è che c'è il ping che ti mette in vantaggio a volte ping abusing ti rapporterei per ping abusing non è per cazzo cioè io guarda adesso sono sotto la mappa ok sto riuscito a te a me mi da problemi di rete a te che metto statistiche un bel coso oggi come si chiama la roba dei perdita i pacchetti ecco i pacchetti percentuali ne ho già 10 neanche iniziata la partita prepara che abbiamo gli osand eh devo passare il rumo la tastiera qui da portino in astica anzi che tastiera il mouse facendo così adesso faccio un po' di shorty gang ma la cosa shorty gang non funge e quindi dovresti andare in short devo capire che mi troffano qui ora credo che c'è bro non c'è non c'è primstone cosa fai io non c'è quello che fa cazzo non c'è una edizione che cazzo che cazzo non c'è una edizione a me ingatti saperando a casa aiutiti la player stand in 107 gli avevo fatto la reina ma non devi fare con la roba take usci se non devi busciare le vittime ecco che cazzo sia certo i ficami sto angolino qua che non cerca mai nessuno e con la shorty neanche si vede gli aspetti che ti arrivano proprio appena vedi l'arma e ti butti te in mezzo e gli spari e nostre sono le tagliani per farti capire temo sia baron d'italia setta vado in sheriff faccio forza si no oh man double go e poi sono stati i 50 i 50 i 50 i 50 i 50 i 50 i 15 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 avevo una classica cosa facevo io ho fatto 145 e Tuscar oh oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo è una mutuosa eh rimani lì vengo vanda butchè poi ti devo far ridere una roba no le ho chiesto una roba e' il minimo Non c'è il main, non c'è il Lotus Il Lotus It's 8 guys Ecco Entra, entra, 355 short It's 8 bro Decoy Spike planted Common tpi Under anger Ah No, no, no No, no, no 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 He My No 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 Ehi! Eh! Ehi! Ehi! You're safe bro! Dai no no! L'espettiamo! L'espettiamo! Dai! Ehm! L'espettiva! Eccola arriva la flash! No, non arriva una flash, arriva una boot Bella, è stata troppata, scusa Bella, vengila, bomba arrivata Vengila Ecco il dot Bello No, perché stavo utilizzando Stavo usando per il retex, per il tavolo No, ma smiro, ma smiro No, ma smiro Wow Dammi il vandal, va Vittali Allora è inizio Mo parliamo noi la stralinga Ancora uno Che va bene Vuotano Riflash, riflash Questa è inizio 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 Questa è una famiglia Questa è una famiglia Quando sei un caffè di pro player Io? Io che... Ma quando... se c'è proprio una scheda video è una connessione che è uguale a zero ma il meno tanto poi intanto l'arena riesce a passare in double d'or che mi fanno dare una mamma oh aspetta eh sì ma la serena eh eh vado a vedere io vado a vedere io torna dietro torna dietro a mia vita no è questa che ci fa qua long 1 a long i've got your trail no 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 Gli ho fatto un po' di damage a quello On B and on window B window, B window Ok, ti pushano Insight Insight Ma è 153 Ma? Ma gli ho fatto 153 e non è morta Come? Eh, si è curata Vabbè, non ho parole Scusa Mattia, poi è la cura da 30 Ora ci penso No, ma aspetta un secondo, ma gli ho fatto solo 23 Ah, ah, è il primo colpo Che gli ho sparato Non ha senso Direi Mi dà il vandal nuovo Vai Grazie C'era pure io il vandal nuovo Ma hanno stornato Ma? Hanno stornato ed è morto l'arma Che senso? Ho cercato, che ce n'è? Insomma, non lo capisco È mid? Non c'è più nessuno Non piccare, non piccare Che arrivo Nevermind La che amassime? No, non ci sei Una lunga, caso a te Due lunga Ma... Eh, ruota hanno messa C'era proprio dietro il me C'era proprio dietro il me Cazzo a sinistra E niente Ho fatto palestra sto round Porco due Sai che ti romperò i coglioni per il vandal? E' brutto non essere sul mille e non avere le skin No ma ti capisco Anche perchè questo è il mio di main Ok però di solito gioco Gli sono morfling Sul tuo main Arrivo tu dico subito Ma più o meno la spanne Mi serve punteggio Cazzo Stavo parlando un attimo Comunque ho fatto il diamond 1 Poi ora sono sceso Ho appena messo la nada Perchè sto parlando il turismo? O che sto parlando? Non il turismo Stavo parlando Il best account è sempre Stavo parlando Stavo parlando l'occhio riesce a fesciare veramente veramente ero là dietro sta qua come che non l'ha aspettato il tuo ci sono scusate comunque fammi capire abbiamo uno ioro che è ex diamante 30 non guardare il bike ho fatto no ma va già se me ne riesce a spottare uno io ero è il back sedge braoooo 120 sedge flash flash non si riesce vaga non ci credo 120 90 raga è uscita l'arena gli sparo che schifo ho finito i colpi che stavo già sparando sto sperando alla sky che d'ho stunnato e quindi i colpi fanno a buttare però sono riuscito poi a killarla è uscita l'arena che fatto 166 però sia l'arena che fa la finica d'accordo d'accordo comunque caso lei line up fatemi speriamo che la profezia del 39 sia vero tranquillo le line up adesso epilepsy i sono ah no non ah è hai ti hai l'altro di a destra è avvistata un piccato in contemporanea riuscito a cliccare sulla sky nella scuola rimaneva con il millisecondo con la smota il tempo di girarmi sono particolarmente forti per me non so che cazzo hanno assurdo stai facendo cose che solo ad iron non funzionano oppure nei server per i è che stai facendo smorti senza senso no sto cercando di sboccare come è double in testa è stato tutto Sì, salverà Che cazzo ne so Le fusa Ma vabbè Complimenti Io non dico più niente Rito sei precise gunplay Tu lo Dammelo il pantal 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 Sbrincio la ran-up Non tirarla Non tirarla Vai Shoot Ok ragazzi L'hai line-up L'hai line-up Un'altra sage che non l'ha capita Lo stavo guardando a te Quindi non so che cosa è successo Magari ti è entrata nella smoke Hai visto la canna dell'arma Ma era sbagliata No, no, mi è entrata proprio nella smoke Cazzo d'oro Mi date un vandal Vieni, vieni Non c'ho il cash Bridge bomb Grazie Non c'ho il cash Pro è una roba Non c'ho il cash Non c'ho il cash Non c'ho il nace Non c'ho il nace Non c'ho il nace Non c'ho il nace Sgd Non c'ho il nace Non c'ho il dabbledo Launching smoke Plant over in corner L'honey 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 inside ma non l'ho visto l'omen non ci avete la vaffanculo, perchè non ce ne sono lunga sta in side, non piccare, non piccare non figurati non posso la prossima volta guardate se qualcuno è già in side perchè mi flasci ma io sto facendo veramente creare sto game ah anch'io io mi sono ancora riscaldato questa mattina i 6-20-14 dato te che ti stai riscaldando io ho fatto tutti i soldi io però sono anche im, c'entra molto qua siamo in una lobby di platini mi sa, non lo so si sono 2x diamond e allora si, siamo in lobby di platini e allora si, siamo in lobby di platini a destra a destra il long è certo si, li abbiamo levati si, li abbiamo levati io sto per la la zona push l'intra lo so l'intra 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 il che il f***a sta partita, è assurdo Eh, ce l'ho scobbato, posso, si sto bato Costa, non ha capito, non ha capito Io sono entrato nella smoke, mi è finita quando sono entrato Comunque caso, ehm, pacchetti persi 53 Eh vabbè Cosa vorrei dire, ehm Attimo secondo il tuo, cosa dai, pacchetti persi totale Zero, ne per dobbio Manco più Adesso mi di 33 Non rido come un maiale Yoro, non f*** Sto gol, sto gol, sto gol Rotate, rotate, go back, go back Go back, guys, rotate Dai, 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 dai Dai, caso, ruota Dai... Non so più parlare, ruota Non so più parlare Non so più parlare, non c'è nessuno Backside Oddio 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 Uno è qui e uno qui Ok, ora uno è qui Piano piano piano, con calma Hai lo spotter Non lasciate il merda Con calma E' andato in sight Vai di classic Eh no, non saldo Eh no, non saldo Eh, poi devo guardarci Eh Sera, questa volta Ma che cazzo gli serve Hai periccato un po' Si sta, si sta Però il vandalo lo voglio lo stesso No vabbè, ma più che guarda Ti giuro, più che panicato Sono stanco dal lavoro E non gioco da parecchio Le ranked in realtà Devo recuperare un po' di aim Però non gioco in rated Per recuperare le aim Non esiste Io uso aimlab diretto Faccio così Eh sì, infatti l'ho ripreso da poco Solo che col lavoro alla sera posso E comunque ci stiamo mettendo Troppo a entrare Ok Che culo di merda Mi spiace Che culo gigante Che culo di merda È presente l'arena che era sotto site Si Hai fatto 120 Non voleva morire Non voleva morire Anch'io l'ho attata 40 gli ho fatto